Ma poi non è che parte va... Pronto? Ma quella va a fondo secondo me. Ma chi sei Marco? Già dove si chiede dove va appesa. Ah dai, vabbè, dai, hai capito, dai. Oggi ma poi dove la appendiamo se vuoi? No, la la mette dentro all'altra. Ho capito, ma non va a fondo? Non va a fondo nè. Guardate altro. Noi ci fidiamo, guarda, dopo ti viene da reclamare. Tu lo vedi, fermare la croma. C'è ogni bus che fatti qui. Sì, però alcune non sono grandi. Eh vabbè, dai, ci basta, dai. Che dici, basta, no? Quattro fette già sete. Che ci vuoi preparare?